E' stata una bella partita Serena, dopo l'1-1, poi sei bravi a vincere il primo set, poi tutto è partito da quel terzo set, dove secondo te l'avete vinta e intanto se sei d'accordo con me che è stata una buona partita, pochi momenti così di... Assolutamente sì, è stata una bella partita perché comunque per noi, come dicevo prima, è un momento molto difficile, poi anche in ricezione ci stiamo un attimo sistemando chi riceve chi non riceve un po' e stiamo contenti perché abbiamo fatto molto bene e siamo sempre state lì con la testa credendoci, quello è stato molto importante, perché per i momenti che magari non va una cosa che stiamo provando, poi ci siamo realizzati, invece non è proprio così, abbiamo sempre tirato dritto e sì, ovviamente sono stati dei sbagli, degli errori un po' troppo, un po' troppo, come si dice, un po' troppo poi lampa, vabbè, e... Qualche scontro dietro, qualcosa di... Sì, sì, che magari non potevano succedere, però siamo stati bravi comunque a cambiare subito pagina e è stato così. Avete superato l'abomì, ancora grazie anche alla vittoria di Novara, adesso siete davanti, insomma, se ne mancano poche partite, però questo primo posto, lo sappiamo, è importantissimo perché significherebbe già partecipare alla Champions già l'anno prossimo. Assolutamente, fate quello, dobbiamo sicuramente non sederci perché siamo in primo posto, anzi dobbiamo spingere ancora di più perché se vogliamo tenerlo, sappiamo che comunque le altre squadre sono pronte a dare il massimo, quindi dobbiamo farlo anche noi, anzi, più del massimo, quindi affrontare le prossime partite con l'attenzione giusta e la credenza giusta. L'ultima cosa, un bellissimo spettacolo anche di pubblico, tu conoscevi la tifuseria della Pomì perché sei stata protagonista con lo scudetto con le rosa, qui un altro pubblico molto bello, uno spot per la pallavolo, questi tifosi che veramente sono una cosa in più del nostro spot. Guarda, è fantastico, anche perché poi sentirli così presenti, così calorosi è veramente per noi un incitamento in più e anche la nostra forza perché quando io sono venuta qua a giocare l'avversaria, quando c'è il pubblico insieme alla squadra è veramente difficile e quindi sono veramente orgogliosa e contentissima di questo pubblico e sono contenta che comunque anche la pallavolo sta facendo comunque il successo. Grazie.